Tocca ora alla seconda batteria della categoria G5, che come i loro compagni dovranno percorrere dodici giri del circuito. Partenza relativamente tranquilla per questa batteria e nelle prime posizioni del gruppo troviamo maglie di Bornato, Peracchi, Mazzano, Otelli, Ronco e Valle Camonica. È un portacolori della Cicli Peracchi che in questo momento prova a forzare l'andatura per cercare di fare selezione. L'azione dell'atleta della Peracchi ha spaccato il gruppo in più tronconi. Al comando ora troviamo cinque atleti. Peracchi, Valle Sabbia, Mazzano, Valle Camonica, Ronco e poco più indietro rientra anche Lautelli. Questo il gruppo di testa. Nono giro e al comando ora troviamo sette uomini. È rientrato anche un atleta in maglia nera della Bornato. Decimo giro e ora sono in otto a contendersi la vittoria. Rientra anche il portacolori della Nuvolento. Ultimo giro aumenta nuovamente l'andatura. Chi la spunterà? E nella volata finale ha la meglio Meloni Alessandro della Cicli Peracchi che si impone davanti a Mor Alessandro del team Valle Sabbia, Bresciani Fabio della Mazzano, Rodolfi Matteo della Nuvolento e Iacchellini Andrea della Ronco.